È un nuovo giorno con una nuova serie di obiettivi. Il primo compito assegnato oggi è di preparare delle presentazioni rilegate. Con l'apertura piatta sulla scrivania è facile da leggere e scrivere e lascia un grande effetto. Bene, ti presento V-Paper. Basta aprirla e posizionarla in qualsiasi stampante a getto d'inchiostro o laser, stampare e rilegare insieme usando un qualsiasi sistema di rilegatura. Ora hai una presentazione piatta per firmare senza portare via gli altri dai loro importanti impieghi. Riduce anche il consumo di carta del 33%. V-Paper, la carta bianca brillante con l'apertura piatta, ecologica, facile da usare e che può essere abbinata a qualsiasi sistema per produrre una presentazione ad affetto in un istante. V-Paper rende i documenti facili da leggere e lascerà tutti impressionati dalla tua professionalità. E la cosa migliore è che è così semplice che non hai più bisogno di nessuno per preparare un documento piatto professionale per te. V-Paper è un'invenzione geniale che lascia un'impressione duratura. V-Paper, leggi e scrivi più facilmente.